Il nostro dispositivo tramite l'interfaccia web fa recapitare alle persone interessate in caso di anomalie e degli allarmi che possono essere di tipo variazioni di temperatura, di umidità del carico, apertura e porte del container, ribaltamenti dello stesso, shock e quant'altro dando così l'opportunità alla persona interessata di agire nelle maniere più opportune con gli organismi preposti al fine di salvaguardare il carico. Abbiamo un dispositivo che deve essere applicato al carico da monitorare e fa tutto da solo praticamente. Manda tutti i segnali alla centrale web, alla nostra centrale di tracciamento dove il nostro cliente tramite delle credenziali che noi forniamo può vedere e gestire questo dispositivo. Circa il 60% della nostra clientela è rappresentata da quelli che sono i proprietari della merce, il restante 40% sono spedizionieri che cercano nel nostro servizio un servizio a valore aggiunto da inglobare nelle proprie offerte. Zenatec è sul mercato da 15 anni, ci siamo dedicati al tracciamento 12 anni fa. Siamo sviluppati, abbiamo sedi in tutto il mondo, agenti in tutto il mondo, sedi New York, Monte Carlo, Genova e agenzie con deposito in quasi tutti i paesi del mondo.